Ci troviamo in piazza Sant'Andrea a Clusone e ci occupiamo del palazzo che oggi ospita la polizia locale e l'ufficio demografico. In passato questo edificio che cos'era? In questo edificio nel salone che ormai è scomparso c'era una grande stemma, uno stemma argento e blu con l'aquila nera in alto e l'agnello con la bandiera in basso. Era lo stemma della famiglia Sant'Andrea, quindi il palazzo è stato, anche la piazza ha preso il nome da questo, è stata la sede della famiglia Sant'Andrea. La famiglia Sant'Andrea è originaria anticamente della zona del Milanese e poi diventa una famiglia nobile importante a Bergamo e si trasferisce a Clusone all'epoca dell'arrivo dei francesi di Napoleone e comincia a abitare questo palazzo nel 1797 con Carlo Signore che diventa poi pretore, pretore sulla sottomata c'è scritto pretore in patria in epoca napoleonica. L'edificio prima era una sorta di sovrapposizione tra un porticato più basso e l'edificio sopra, che era più basso di quello che noi vediamo oggi, tant'è che dalla piazza si poteva vedere direttamente la chiesa sopra con il campanile. Ma sono stati proprio Sant'Andrea a sopra elevarlo, poi metto con Carlo Signore, l'edificio è stato sopra elevato e è stato demolito e bonificato il porticato sotto che era inserito nella serie di porticati che giravano intorno alla piazza dell'orologio e piazza del mercato. Questo edificio è stato abitato dalla famiglia Sant'Andrea, quindi dalla fine del 1700 fino all'inizio del 1900, fino al 1921, quando muore Giovanni Sant'Andrea, figlio di Carlo, nipote di Giovanni, che lascia per testamento i suoi mobili, i suoi quadri per la costituzione di un museo, i suoi libri per una biblioteca e i suoi beni per una casa di riposo per anziani. Da allora ha subito altre trasformazioni. In epoca napoleonica, fine del 1700, l'edificio è stato sopra elevato ed è stato livellato dal palazzo comunale che anche quello aveva avuto un sopra elevamento all'inizio dell'800. Quindi dal 1800, inizio del 1800 fino al 1921, è stata la serie della famiglia Sant'Andrea. Grazie a tutti.